ciao a tutti allora piccolo video svuota la spesa dell'idl abbiamo speso 46,97 euro e abbiamo preso queste ciabatte da uomo che costavano 4 euro poi mi sono presa questo pigiama io sono fissata con i pigiami e ho preso un m perché l' s di questo qui in nero non c'era spero non mi stia enorme perché le taglie dell'idl sono abbastanza abbondanti quindi con quel pigiama è bello comodo è fatto così e costa 8,99 euro mi sembra poi abbiamo preso i biscottini per i cani questi li ho già aperti perché mi hanno dato uno appena arrivati e questi qui così e questi fatti così e questi costano 89 centesimi al pacchetto poi ho preso due pacchi di carote perché devo fare la vellutata di carote quindi poi poi del prosciutto cotto a cubetti questi qui ci ho con un sa che francesco ne va matto poi ho preso i crostini da mettere nella vellutata questi sono con olive e origano poi abbiamo preso due ricotte queste qua poi ho preso la crema contorno occhi che la mia era finita e ho preso questa che è alla rosa canina poi abbiamo preso quattro confezioni di mozzarella piccoline insomma ciliegine di mozzarella poi abbiamo preso un po' di caffè due di questo qui decaffeinato due di questo un terzo e uno di classico e ultima cosa ho preso questo profumo che l'altra volta avevano usato e mi era piaciuto un sacco costa 4,99 euro quindi niente praticamente e mi piace un sacco e vi faccio vedere anche la boccettina dentro che è molto carina si chiama Essence Jolie e questa è la bottiglia è molto carina ed è anche molto buona e basta questo è tutto grazie per aver visto il video vi ricorro a fare la vendita per chi sopra ci tardi e ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti